Buongiorno a tutti, sono Federica Paolicchi di Terzium Technology. Siamo qui insieme al nostro partner Pizziterra per presentare le nostre soluzioni di monitoraggio smart in ambito strutturale, infrastrutturale e geotecnico. Il nostro obiettivo principale è garantire un futuro sicuro ai cittadini e al territorio. Partendo da questo presupposto abbiamo creato questi sistemi di monitoraggio wireless che si basano sulle principali reti radio per l'internet delle cose. Quindi abbiamo reso i sensori intelligenti, quindi i sensori collegati a un data logger trasferiscono direttamente i dati che passano dal cloud al dispositivo che può essere un pc o uno smartphone. E quindi diciamo che i dati visibili in tempo reale, visibili comodamente seduti davanti a un pc. I principali ambiti di applicazione sono infrastrutture, edifici, ambiente e i livelli della falda, quindi anche per quanto riguarda il campo idrogeologico. Abbiamo diversi tipi di sensori che possono monitorare cedimenti, fessurazioni, spostamenti, livello della falda, vibrazioni e inclinazione e molti altri. I principali vantaggi rispetto ai metodi tradizionali sono la facilità di installazione, perché appunto si va in loco, si fissa il sensore, è fatta diciamo perché i dati arrivano sul dispositivo. Il monitoraggio da remoto in tempo reale. La cosa importante appunto è che non sono impattanti, infatti sono stati installati anche in strutture di prestigio e monumenti. Il fatto dell'ottimizzazione dei costi, perché non c'è più la necessità di effettuare sopralluoghi, e il ricevimento immediato dei dati. Quindi diciamo che il nostro scopo è garantire un futuro sicuro, più sicuro a tutti. Grazie mille.